Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Faccia a Faccia, il nostro programma che ci permette di conoscere meglio importanti personaggi della Romagna e non solo. Questa volta parleremo di politica, dopo la parcondicio che ci ha un po' limitato per via del referendum, possiamo tornare a parlarne a 360 gradi e lo facciamo con un ospite, grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito e qui con noi l'euro parlamentare del PD, Damiano Zoffoli, ben arrivato. Ovviamente il discorso lo vedete già in sottoimpressione, dialogo in dialogo con l'Europa, perché essendo qui con noi nel nostro studio un europarlamentare, di altro non possiamo parlare. Medico dentista, poi rapito dalla politica nella sua cesenatico di cui è stato sindaco e poi dal di lì sempre avanti e sempre avanti fino ad arrivare a Strasburgo e Bruxelles. Nel 2015 mi sembra, la sua prima... febbraio 2015. Febbraio 2015. A proposito, credo che la regia abbia una foto da far vedere, perché si riferisce, se la vediamo, alla sua prima firma del foglio delle presenze al Parlamento europeo. A proposito, emozione? Tanta, tanta perché... Ecco, la vediamo qui. Comunque io vengo dal territorio, da cesenatico, ho sempre fatto politico nel mio territorio, nella mia regione e mi considero un politico di cortile, diciamo. Ho sempre vissuto di relazioni, però vivo adesso questa esperienza straordinaria, meravigliosa, questo grande onore, privilegio di rappresentare il mio paese, il mio territorio in Europa. L'Europa oggi è un po' il crocevia di tutte le vicende mondiali, però questo secondo me manda anche un segnale. Se una persona normale, semplice, come il sottoscritto... Si impegna. Si impegna, tiene i contatti, è possibile. È possibile. Io dico sempre con i ragazzi e con i giovani, perché dobbiamo puntare su di loro. Mettetevi in gioco, credeteci, rischiate... Datevi da fare. Impegnatevi. E l'Europa oggi è una bella sfida. A proposito dell'impegno, qui leggo, anche qui c'è un'altra schermata che la regia può mandare in onda, delle sue presenze, perché uno dice cosa fa un parlamentare? Qui leggo che su 104 sessioni planetarie lei è stato presente a 103, cioè il 99%. Leggo anche che ha partecipato a 3.913 votazioni su 4.070, cioè il 96%, e che però in questo periodo ha preso 112 aerei e ha percorso circa 80.000 chilone. Un bel impegno, me lo lasci dire. Ci sono alcuni numeri, solo per evidenziare... Intanto bisogna rispondere a chi ti ha eletto, chi ha avuto fiducia, per cui ho raccolto, così dopo alcuni mesi di impegno, dei dati che fra l'altro sono tutti disponibili nel sito del Parlamento europeo, perché è vero che l'Europa è lontana, è distante, c'è poca informazione, però dipende anche da noi. Io dico sempre, se tu vuoi sapere come vota un consigliere comunale, o durante il consiglio vai nell'assemblea, o leggi i giornali locali, oppure non lo sai. Se vuoi sapere come ha votato Damiano Zoffoli in Europa, mezz'ora dopo che io ho votato, tu vai nel sito del Parlamento, clicchi Damiano Zoffoli e lì ci sono tutti i miei voti, compresi gli emendamenti, gli interventi che ho fatto, per cui utilizziamo gli strumenti che ci sono. Un parole povere, chi l'ha votato può anche seguire come svolge il suo mandato. Questo è uno, e io cerco con le newsletter, con i contatti, con gli strumenti oggi della comunicazione, social, in tutti i modi di far sapere cosa succede in Europa. Certo, certo. Nel Parlamento europeo, come in quelli italiani, ci sono le commissioni. Lei fa parte di due commissioni, leggo membro titolare della commissione ENVI e membro sostituto commissione REGI. Ecco, di che cosa si interessano ENVI e REGI? Esatto, allora noi parlamentari siamo 751 in rappresentanza di 28 stati membri, ora vediamo gli inglesi che hanno fatto un'altra scelta, ma adesso siamo 28 e ogni uno di noi è in due commissioni. Io sono nella commissione ENVI, che è la commissione che tratta di ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare, che è la commissione principale. E poi sono membro anche della commissione REGI, che invece tratta dei temi delle politiche territoriali e regionali, quindi i contatti con i territori e tutta la partita dei fondi europei. E qui si decidono, poi vengono approvate ovviamente in Parlamento, si decidono le leggi, i percorsi legislativi fino all'approvazione delle leggi. Lei mi diceva, prima di andare in onda, il 70% delle leggi che ci governano in Italia, chi le ha fatte? Esatto, cioè noi abbiamo, questo dato ritorna ogni tanto nelle elezioni, poi sembra sparire dalla consapevolezza. La realtà è questa, cioè il 70% delle leggi che regolano la nostra vita quotidiana, Cesena, Cesenatico, Forlina, i nostri territori, l'Emilia Romagna, dipendono da Bruxelles, da Strasburgo. Per cui è fondamentale, è indispensabile che rispetto a questo livello di governo, a questo livello istituzionale, noi recuperiamo informazioni, dialogo, contatti, relazioni. Non è possibile che al mattino quando facciamo colazione apriamo il quotidiano, no? E quindi magari ci arrabbiamo con l'Europa, ecco l'Europa che ha deciso, ci costringe, ci obbliga, sembra che qualcuno di notte, non si sa dove, 4 o 5, si siano riuniti, abbiano deciso... 4 carbonari di una volta. In realtà siamo di fronte a percorsi che durano mesi, alcune volte o anni, che coinvolgono i parlamenti nazionali, che coinvolgono il mondo dell'assassionismo, le organizzazioni. Quindi si tratta però di questo lavoro di renderlo disponibile, diciamo, ai cittadini. Cioè il problema dell'Europa oggi è che è per molti un oggetto misterioso, troppo lontano. Quindi c'è un distacco tra gli italiani in senso lato e l'attività del Parlamento europeo. Purtroppo sì. Io, ripeto, utilizzo gli strumenti a disposizione, ma mi rendo conto che c'è bisogno di coinvolgere i cittadini, di renderli ancora protagonisti, perché è la crisi che viviamo, è una crisi di fiducia soprattutto, e la fiducia si riconquista, si alimenta grazie ai rapporti e alle relazioni. Ad esempio, nelle nostre scuole ci dovrebbe essere, io dico, l'insegnamento obbligatorio dell'Europa, dell'istituzione europea. Come educazione civica, in sostanza. Dovrebbe essere un insegnamento obbligatorio. Certo. A proposito della sua attività, leggo qui Vice Presidente Delegazione per i Rapporti con l'Iran. Ricordiamo tutti il problema del nucleare iraniano, quindi argomenti mica di poco conto. Quindi l'Europa, ovviamente, dialoga a livello internazionale anche su questi argomenti attraverso i suoi parlamentari come lei. Certo. Ecco, quindi un altro livello di impegno, oltre alle commissioni, è quello delle delegazioni. Cioè, rispetto ai paesi extra-way, quindi fuori dall'Europa, esistono anche lì degli organismi rappresentati dai vari parlamentari che seguono. Io sono Vice Presidente di una delegazione che segue i rapporti con l'Iran, che fino all'altro giorno era anche questo fuori dal mondo, chiuso dopo la rivoluzione islamica, Khomeini. Poi, all'improvviso, anche questo quasi, nel senso dopo anni anche lì di discussione, l'accordo di luglio dello scorso anno in Austria sul nucleare ha riaperto una relazione, un rapporto con l'Iran che rappresenta, dopo la caduta del muro di Berlino, il più grande mercato che si apre anche per il mondo dell'economia, le imprese. Infatti ho incontrato, ho visto molte imprese, associazioni interessate anche a... l'Iran ha interesse ad aprirsi anche su un mondo ancora complicato. Certo, certo. A proposito di conoscenza, di quello che fa l'Europa e delle opportunità che offre l'Europa, c'è una slide che la regia può mandare in onda, ma ha anche qui in mano proprio l'ultima sua pubblicazione. Lei ha pubblicato tre guide ai finanziamenti europei, dedicati ovviamente a vari argomenti per gli enti locali, questo qui è per il turismo, quindi qui che cosa trovano, coloro i quali se lo troveranno tra le mani? Allora, noi spesso passa il messaggio dell'Europa dei vincoli, degli obblighi, dell'oppressione, della burocrazia, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia, l'Europa delle opportunità, della speranza, delle opportunità, cioè noi italiani anche qui siamo in ritardo, cioè i fondi europei, noi abbiamo un sistema per cui trasferiamo all'Europa un euro e ci tornano indietro 60 centesimi, cioè abbiamo un deficit che dipende da meccanismi di riequilibrio dentro al sistema dei 28. Sì, perché gli altri 40 centesimi vanno ad altri stati meno abbienti. In parte questa è la direzione, ma un altro elemento dipende dalla nostra incapacità, ritardi di riequilibrio, debolezza nel acquisire, nell'andare a prendere questi soldi, perché una parte delle finanze europee transitano attraverso, nel caso dell'Italia, le regioni e devo dire che l'Emilia Romagna, ho visto anche il programma di legislatura di Bonaccini, dei 15 miliardi di investimento, due e mezzo sono di origine europea. Quindi già in questi territori noi utilizziamo, penso al sociale, penso alla ricerca, all'innovazione, alla formazione professionale, molte risorse europee. Però c'è anche il canale diretto di cui io parlo in queste pubblicazioni. Mi sono rivolto a chi? Mi sono rivolto agli amministratori locali, che sono quelli che alla fine, il front office, che tutti i giorni vivono le sfide e che oggi fanno fatica a trovare i soldi per asfaltare le strade. Allora io dico, con i soldi dei cittadini, dei nostri comuni, asfaltiamo le strade, le scuole, per fare i grandi investimenti, di cui anche la Romagna. E qui io credo che proprio la sfida, noi romagnoli, dobbiamo capirlo e dobbiamo essere poi conseguenti. La Romagna ha un milione e centomila abitanti. Pensate un po' che l'isola di Malta, che ha 400 mila abitanti, è uno Stato membro. Quindi noi romagnoli siamo un terzo di Malta, dell'isola di Malta. Quindi se fossimo più uniti, lavorassimo in maniera più coordinata veramente fra di noi, non solo nei convegni, negli articoli di giornale, ma fossimo capaci. Ecco, noi dovremmo presentarci, io dico in Europa, con un piano programma, Master Plan, in cui chiediamo come Romagna i finanziamenti. La sfida non può riguardare il sindaco comune. Io ho degli amici sindaci comuni di mille e due mila abitanti, che mi chiamano, mi cercano. Ma ci sarebbe qualche fondo europeo? Io gli abbraccio, li saluto. Ma dico, ma per approcciare... È la Romagna come minimo che si deve presentare. Ecco, quindi questi soldi qui ci sono, sono tante. È più facile portarsi a casa milioni di euro che 50 mila euro in Europa. Perché la dimensione è quella. Ma ci vuole il fisico, ci vuole la Romagna Unita. Ci vuole la Romagna Unita e bisogna avere informazioni, quella informazione che imparte, ovviamente... Esatto, qui parlo soprattutto di turismo, che è una della semalagroalimentare, la principale economia, quindi è sul turismo. Qui, anche qui, cioè spesso, siccome il turismo è una materia trasversale, perché parlare di turismo significa parlare non solo di recettività alberghiera, di spiaggia, di mare, ma significa parlare anche di ambiente, di verde, di infrastrutture, di strade, perché tutto è turismo. È la cultura dell'accoglienza, il sistema dell'accoglienza. Ora, quindi queste risorse spesso sono disperse in vari canali, quindi io cerco di illuminare chi vuole mettersi alla ricerca di queste risorse e gli do degli indirizzi e delle opportunità. A proposito, onorevole, lei ha parlato di turismo, turismo balneare e la Bolkestein la cercano i nostri bagnini, i nostri operatori la cercano. Adesso la palla è naturalmente passata al Parlamento nazionale, cioè deve essere il nostro Parlamento che fa una legge, ci sono degli indirizzi che a mio avviso dentro a questo percorso, questa legge, si deve comunque tutelare quel patrimonio di imprese che hanno fatto forte, grande il nostro turismo e che non può essere disperso o non può essere in qualche modo spazzato via. Quindi nelle scelte che dovrà fare in questo caso il Parlamento nazionale si deve tener conto degli investimenti, di chi ha scommesso, di chi lavora e di chi garantisce oggi qualità e servizi. Certamente. Ho in mano altra documentazione che quasi quasi me la presentano come un agente di viaggio, nel senso che vedo che la sua attività al Parlamento europeo ha previsto anche l'arrivo di 310 visitatori ospitati, 169 studenti insegnanti, 141 amministratori locali e rappresentanti dell'associazionismo. E qui ci sono anche delle foto, ecco stanno proprio scorrendo adesso, ma sono solo 4 foto delle decine e decine che avremmo potuto fare vedere. Quindi anche questo è importante. Esatto, quello è un altro modo per avvicinare le sedi europee Bruxelles-Strasbourg ai cittadini, per cui noi abbiamo la possibilità di invitare, di accompagnare dei gruppi e mi riferisco soprattutto a giovani ragazzi scuole con i loro insegnanti, educatori, ma anche agli amministratori locali che possono venire per due o tre giorni a vedere, diciamo con i loro occhi, a sentire il lavoro, quindi dentro alle aule parlamentari e soprattutto in quelle occasioni si cerca di organizzare incontri di approfondimento anche ad esempio con tramite, col supporto della sede nel caso dell'Emilia Romagna, della delegazione emiliano-romagnola a Bruxelles, dove si danno informazione sulle opportunità dell'Europa nel caso degli amministratori proprio sui fondi europei. Adesso onorevole parliamo un po' di quello che sarà il futuro, i rischi e i problemi dell'Europa nel suo complesso, che lei ovviamente frequentando ed essendo direttamente in campo su queste vicende meglio di nessun altro ce le può illustrare. Il limite dell'Europa attuale, lei scrive, è di essere troppo grande con i piccoli, cioè lontani dai cittadini e dalle comunità, ma troppo piccola con le grandi potenze emergenti, dunque incapaci di incidere sulle grandi sfide dell'umanità. Un bel problema. Esatto, questo è esatto, perché noi non dobbiamo dimenticare un punto. Noi europei, tutti a 28, quindi compreso gli inglesi, siamo oggi appena il 7% della popolazione mondiale. Quindi il 93% dell'umanità, uomini, donne, bambine, vive fuori. Noi pensiamo, io quando sono a casa mia, Cesenato, il centro del mondo, l'Emilia Romagna, l'Italia, noi siamo piccoli e abbiamo un altro problema, siamo tendenzialmente vecchi. Abbiamo un'età media di 25 anni. Allora se ci confrontiamo con gli africani, esempio veloce, sono il doppio di noi e hanno un'età media di 25 anni e già questi pochi dati ci fanno capire molte cose che stanno succedendo nel mondo, per cui come europei abbiamo bisogno di essere uniti, altrimenti rischiamo grosso, rischiamo, io dico sempre, di diventare il museo del mondo. Il museo del mondo. Cioè, fra un po' di anni l'umanità, la gente, verrà in Europa per vedere quello che siamo stati, i nostri monumenti, le bellezze artistiche, il nostro passato, ma non saremo più protagonisti del futuro. A proposito dei cambiamenti, con l'elezione di Trump a Presidente degli Stati Uniti, lei afferma che si potrebbe creare un'alleanza Trump-Putin, quindi Russia e Stati Uniti e a questo punto l'Europa avrebbe un ruolo nettamente marginale, giusto? Questo rafforza la riflessione di prima. Oggi si parla spesso di ponti e di muri, muri purtroppo. Ecco, immaginiamo un grande ponte che parte dall'America, arriva la Russia e gli europei sotto il ponte. Cioè, in un ruolo, diciamo, di spettatori e marginali. Quindi, anche questo conferma la necessità che l'Europa non solo rimanga unita, ma completi il progetto di integrazione europea, che oggi non è completato. Certo. Parliamo adesso di un argomento quanto mai spinoso, quello dell'immigrazione. L'Italia lamenta, rispetto agli altri partner europei, che queste parti sono in gran parte sordi a questo problema. Magari di facciata, sì sì, ma quando si va al dunque non sono accoglienti. Ecco, lei che li frequenta i suoi colleghi, che so, danesi, piuttosto che olandesi, piuttosto che tedeschi, piuttosto che ungheresi. Che sensazione ha? Allora, intanto questa è la sfida più grande che ha di fronte l'Europa, no? E la sensazione è questa, che mentre, quando ci si è relazione in Parlamento, con i nostri colleghi, amici, il mio vicino di banco, noi siamo seduti in ordine alfabetico, quindi Zofoli, Zemek si chiama, è un polacco. Fra di noi parlamentari, siccome veniamo dal territorio, siamo uomini e donne con degli affetti, ognuno di noi ha le sue idee, ma c'è la consapevolezza dei problemi e anche la volontà di trovare delle soluzioni. Infatti il Parlamento, sul tema dell'immigrazione, già nell'aprile dello scorso anno, quando ancora il fenomeno non era esploso in tutta la sua drammaticità, in questi numeri, infatti non dobbiamo dimenticare che questo non è un'emergenza, cioè l'idea che è iniziato ieri e finisce domani, non è così, questo è un fenomeno mondiale che ci accompagnerà nei prossimi decenni. Dicevo, in Parlamento, che rappresenti i cittadini, si trovano le soluzioni e i punti di contatto. Quando la palla passa agli stati, ai governi, perché voi sapete o dovete sapere che l'Europa funziona su tre gambe, cioè la Commissione Europea, il Consiglio Europeo e il Parlamento Europeo, ecco, quando la palla passa al Consiglio Europeo, cioè dove entrano in campo gli interessi nazionali, i governi, gli stati, lì molte decisioni del Parlamento, molte volontà si bloccano o vengono rallentate perché prevale l'egoismo e la forza, si vota quasi continuamente in uno Stato o nell'altro, l'interesse nazionale, che è questo che alla fine rallenta le soluzioni. Ad esempio sull'immigrazione è una considerazione che mi dispiace farla, ma i paesi dell'Est che hanno ricevuto tanto dall'Europa, stanno ricevendo in termini di finanziamenti europei, di tutela, sono tutti ancora spaventati da Putin, tremano tutti, per cui l'Europa è un elemento di protezione, di sviluppo, di crescita per quei paesi. Ecco, di fronte a questa emergenza, bisogno, necessità dell'immigrazione, alzano i muri. Quindi questo cosa significa? Significa che chi più ha avuto, meno è disponibile a restituire. Dopodiché l'Italia ha incominciato a fare questo ragionamento, perché noi siamo una penisola, la gente arriva dal mare, arriva in Italia, ma per ragioni geografiche, non è che arriva, viene lanciata, molti vogliono andare in Germania, nel nord, quindi questo è un tema che va gestito, non subito, ma va governato e gestito a livello europeo. E abbiamo detto a questi paesi dell'est, voi non siete disponibili a fare la vostra parte, ad accogliere profughi? Niente soldi. Perché l'Europa non può essere, non va presa come un menù, io mi prendo il primo, il dolce, no no, tu ti prendi dall'antipasto fino al dolce, alla frutta. Anche quello che non ti piacerebbe mangiare. Non si può scegliere, perché altrimenti le cose non vanno avanti. Esattamente, esattamente. Senta, lei parla e fa una giusta distinzione tra diversità e disuguaglianze. Le diversità sono un valore da promuovere, mentre le disuguaglianze vanno combattute. Esatto, questo è il motto dell'Europa, è uniti nella diversità. Cioè noi partiamo dalla realtà, siamo diversi. Non possiamo essere tutti uguali. Anzi, l'omologazione è un errore. Il valore, la ricchezza, la bellezza, la creatività dell'Europa nasce proprio dal fatto che siamo diversi fra di noi. Quindi le diversità sono una ricchezza e un valore. Non vanno confuse con le disuguaglianze, cioè, perché le disuguaglianze sono un disvalore. Noi purtroppo sono aumentate le disuguaglianze, bisogna combattere, bisogna ridurle, le distanze di disuguaglianza, ma proprio a partire dalle potenzialità, dalle ricchezze e da questa diversità. Per cui è importante, ecco, non confondere i due campi. Senti, stiamo avviando verso la fase finale di questa interessante chiacchierata. Lei ha davanti ancora alcuni anni di... Siamo a metà mandato. A metà mandato, ecco. Alcuni anni. Cosa le piacerebbe fare, portare in porto in questi anni che è ancora davanti? Beh, intanto mi piacerebbe fare... Ecco, l'Europa è a metà del guado, no? Come stiamo attraversando un fiume, l'acqua cresce, nel senso che i problemi aumentano. Ci arriva ormai qui. I problemi aumentano. La sfida è climatica, l'immigrazione, il terrorismo, il declino demografico. Quindi, qualcuno dice, torniamo alla riva di partenza, torniamo indietro. Abbiamo sbagliato tutto, l'Europa non è la soluzione, è la causa dei nostri mali, torniamo indietro. Io non sono fra quelli. Io dico, nuotiamo più forte per arrivare dall'altra riva. Perché così com'è, è chiaro che ci affoghiamo tutti. Quindi lo status quo non va bene. Noi abbiamo bisogno di completare il progetto europeo. Faccio due o tre esempi veloce. Prego. Sistema di sicurezza militare e di difesa. Ora, abbiamo visto cosa è successo col terrorismo. Pochi terroristi, Parigi, Bruxelles, parenti più o meno fra di loro, sono andati avanti in dietro, in due mesi sono fatti esplodere. Dramma, tragedie, morti in Europa, cosa significa? Che il sistema dell'intelligence europea non lavora in maniera coordinata. Noi abbiamo 28 eserciti, spendiamo una volta e mezzo la Cina nella difesa, meno della metà degli Stati Uniti, ma una volta e mezzo la Cina, e i risultati sono quelli che sono. Per cui la prima cosa da fare è liberare risorse per gli investimenti, l'occupazione, i nostri giovani, il lavoro. C'è uno spreco enorme e non funziona. Per cui lavorare per una sicurezza. Io voglio, prima si diceva dell'immigrazione, io voglio sapere chi entra in casa mia, chi entra in Europa. Quindi le difese delle frontiere, sapere chi entra e chi esce, chi ha diritto a entrare. Quindi completare l'Europa significa fare un passo in avanti su questo fronte. Poi c'è il problema anche qui della fiscalità. Cioè noi abbiamo una diversità di trattamenti dentro l'Europa che ci comporta un fatto. Noi pensiamo ai paradisi fiscali, le Cayman, le isole nel Pacifico. L'Olanda. L'Olanda, il Lussemburgo, l'Irlanda. Abbiamo visto l'Apple. Che paga le tasse di una parte. Per ogni milione di profitto, 50 euro di tasse. Io quando l'ho letto, l'ho riletto perché pensavo di aver lasciato indietro qualche zero. Quindi noi abbiamo un sistema oggi che permette di farsi concorrenza sleale dentro i confini europei. Per cui è chiaro che bisogna andare in direzione di armonia. Ho fatto due esempi per dire dove mi voglio impegnare io in questi... I prossimi anni. Onorevole, dai due esempi che ha fatto io nel salutarle e ringraziarle. Ho capito che avrà molto da fare in questi prossimi anni. Buon lavoro a lei. Grazie per quello che ci ha detto. E grazie anche a tutti voi che ci avete ascoltato. E mi raccomando, l'Europa deve farsi volere più bene. Ma noi dobbiamo volere più bene all'Europa. Grazie. 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 Grazie a tutti.